Le stufe ad accumulo Tonwerk, design premiato e tecnologia innovativa al massimo livello. Con le sue pareti laterali in pietra colata, curvate verso il lato posteriore, la T1 Swing permette di risparmiare spazio e ha un aspetto piacevole. Inoltre, l'elegante meraviglia offre un'ampia vista sul fuoco grazie alla porta in vetro senza telaio coperta da brevetto. Tutti i prodotti Tonwerk colpiscono per il loro design unico. Per questo la T1 Swing è stata premiata, tra le altre cose, con il Red Dot Design Award. L'efficacia completa l'opera. Con una sola carica di legna, questo modello garantisce un sano calore radiante per 6 ore e grazie alla combustione permanente assicura i valori di emissioni più bassi e un fuoco duraturo. Grazie alla possibilità di ruotare delle stufe ad accumulo Tonwerk, si può godere una vista variabile e illimitata sul fuoco scoppiettante. Esattamente quello che ci vuole per una tranquilla serata a casa. Per maggiori informazioni sulla T1 Swing e sugli altri modelli di stufa basta visitare il nostro sito internet tonwerk-ag.com Composizioni ardenti create grazie alla maestria di persone che conoscono bene il loro mestiere. Tonwerk. Stufe ad accumulo made in Switzerland. Venezia hatta la domenica tr lo an